Allora è uscito QGIS 2.8, ho visto che mi è stata già installata la versione 2.8.1 e tra le grandi novità, una cosa che aspettavo da molto e penso che l'aspettavano anche tanti altri è la creazione dello stile con direttamente la mappa di concentrazione c'è sempre stato il plugin hitmap, però questo significava prima di tutto installare un plugin seconda cosa, se si modificavano delle geometrie bisognava ricreare il plugin ho fatto alcuni esperimenti di gestione dinamica attraverso il database e funziona tutto comunque vediamo subito questa nuova novità di QGIS quindi QGIS 2.8 si prevede di caricare, adesso non so se funziona anche con dei poligoni carichiamo dei punti carico gli alberi di Amsterdam open se andiamo nello stile mappa di concentrazione lo lanciamo subito applica e lui fa questa mappa di concentrazione cerchiamo di dargli un po' di stile verde visto che sono alberi togliamo la trasparenza togliamo il bianco come colore finale e abbiamo una mappa della trasparenza cosa succede? ho verificato adesso siamo nella proiezione 4.3.2.6 se carichiamo ad esempio le mappe di base stamen in onore anche del mio biglietto da visita che ho fatto esattamente con Amsterdam e stamen toner non funziona non funziona la mappa di concentrazione ho visto che praticamente la proiezione al volo che è abilitata che l'ha portata in 3.8.5.7 alla fine mi risulta che il punto viene riproiettato come al solito c'è come al solito quando si cambiano le coordinate lì a coordinate 0.0 non so se questo è un bug o comunque sembra comunque un errore come si risolve salviamo salva con nome lo riproiettiamo in 3.8.5.7 il nostro il nostro file chiamiamo pt amsterdam tri 3.8.5.7 prog facciamo salva aggiungi qua facciamo il sistema di riferimento in cui andrà a salvare il file è 3.8.5.7 lo aggiungiamo direttamente alla mappa a posto ok eliminiamo pure questo risumiamo sul amsterdam ricreiamo la simbologia con la mappa di concentrazione e adesso sembra funzionare tranquillamente quindi si risolve semplicemente così facciamo la duplica diamo un po' di stile il simbolo mettiamo questo diamond e sotto la mappa di concentrazione anche come abbiamo fatto prima la facciamo verde con il colore finale trasparente facciamo applica e questo inizia ad essere una bellissima mappa di concentrazione dei nostri amberi riduciamo il simbolo facciamo uno ok qua nelle varie opzioni c'è migliore praticamente qua si vedono adesso si vedono comunque i pixel esattamente qua si può fare una risoluzione migliore ci metto un po' più di tempo ma viene molto meglio si può mettere la trasparenza mettiamo 39 così si vede anche il fondo e poi si può cercare anche il raggio il raggio millimetri unita mappa possiamo fare così mettiamo 100 ok mettiamo 1000 questo incomincia ad essere comunque una mappa reale di concentrazione delle zone alberate o meno della città forse la trasparenza è un po' troppa mettiamo 25 e questo devo dire che è un ottimo risultato cosa prevede anche il plugin ci sono magari altre opzioni proviamo a fare scolorisci no beh comunque queste qua sono le varie opzioni di filtro possiamo pesarlo in base tipo all'età degli alberi adesso non so che tipologia di alberi che l'età degli alberi ma possiamo anche creare altre visualizzazioni come buono o cattivo nel senso che è dal verde al rosso mettiamo questo ok viene fuori una visualizzazione di questo genere adesso questa qua incomincia a piacermi aumentiamo un attimo il raggio mettiamo 2000 perfetto faccio uno screenshot scrivania e così lo mettiamo sul sul gruppo di di flicker per il QG screenshot e quello che volevo farvi vedere era un'altra cosa ad esempio proviamo a modificare le geometrie modifico la geometria seleziono tipo queste queste geometrie faccio muovi con questo pulsante se io le muovo ad esempio qua faccio salva potete vedere che la concentrazione dovrebbe spostarsi si dovrebbe spostare ok adesso la ricalcolo perché non l'aveva ricalcolata la concentrazione si è rispostata qua proviamo a rifare questo passaggio perché praticamente bisogna spostare un attimo la mappa quindi modifica seleziono questi alberi qua qua vedete c'è una macchia e adesso li sposto qua dove non c'è e dove è rosso la mappa di concentrazione li muovo tenete d'occhio un attimo i colori salva adesso la mappa di concentrazione è ancora spostata qua dove non ci sono i punti e qua non si vede ancora niente muovo un attimo la mappa la mappa si riaggiorna fa rendere e ritrova la mappa di concentrazione qua è un bellissima è una bellissima novità questa e ci permette veramente di fare delle nuove mappe con con questo plugin non nuove mappe però mappe in modo più semplice poi sembra anche un po' più sviluppato rispetto anche al plugin precedente comunque sembra che il plugin precedente sia stato completamente integrato questa è una delle novità vediamo poi nei prossimi video se ce ne sono altri ciao ciao Grazie a tutti.